Il polverone sul teatro stabile d'Abruzzo è destinato a provocare ulteriori strascichi. Parliamo delle dimissioni del direttore artistico Alessandro Dalatri, impegnato in questi giorni nelle riprese della seconda serie dei Bastardi di Pizzo Falcone. Dalatri ha lasciato, lo ricordiamo, la direzione artistica a pochi mesi dalla fine del suo mandato, che sarebbe scaduto a novembre di quest'anno. Il rammarico, come Dalatri stesso ha spiegato ai giornalisti, è quello di non aver potuto mettere in scena lo spettacolo di Luigi Pirandello e la Nuova Colonia, con 16 attori che erano peraltro già stati selezionati dal TSA. Uno spettacolo che avrebbe avuto una scenografia composta da puntellamenti dismessi, sistemati ad arte da una studentessa dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. La Nuova Colonia era in pratica la proposta del TSA per la rassegna ai cantieri dell'immaginario, in corso all'Aquila, ma nessuno vedrà all'Aquila questo spettacolo. È stata infatti la valutazione della commissione esaminatrice su questo spettacolo a mandare in bestia Dalatri, che ha optato per le dimissioni anticipate. La commissione era formata da Antonio Massena, direttore dei cantieri dell'immaginario, da Ruggero Sintoni, produttore teatrale e cinematografico, Guido Barbieri, musicologo ed ex direttore artistico della Baratelli, Massimo Fusillo, professore dell'Atene Aquilano, e Dania Niceti, dirigente comunale. I fondi del Cipe, ha spiegato anche Dalatri, c'erano, ma la delibera è stata male interpretata e dunque il Comune ha bloccato le erogazioni. Lo sfogo di Dalatri è molto amaro e parla di un difficile risanamento dello stabile, di tante difficoltà per lavorare, ma anche di un lavoro artistico prezioso e di grande qualità. Dalatri, nel ringraziare anche l'ex sindaco Cialente e la Regione, che non hanno mai fatto mancare il loro appoggio, parla di una stagione, quella dello stabile, fortunatamente salva, in quanto molti spettacoli erano già stati finanziati. Dunque niente TSA ai cantieri dell'immaginario e niente più Dalatri, che con questo colpo di teatro si congeda definitivamente dal capoluogo di Regione.